Ciao a tutti, oggi parliamo della polmonite ab ingestis nel cane e nel gatto. È una patologia fondamentalmente infiammatoria che colpisce i nostri cani e i nostri gatti e tendenzialmente è una complicanza di un'altra patologia, di un'altra situazione. In questo video vi spiegherò ovviamente che cosa è la polmonite ab ingestis, che cosa crea, che cosa causa e quali sono le patologie fondamentalmente che possono o le situazioni, come poi vedrete, che possono causare questo tipo di complicanza. Allora la polmonite ab ingestis non è nient'altro una polmonite che si verifica a seguito di aspirazione da parte della trachea di materiale di cibo o contenuto nello stomaco, quindi molto acido, o di solito che non è ancora arrivato allo stomaco, quindi tendenzialmente materiale contenuto comunque in esofago. La prima patologia che causa una polmonite ab ingestis è fondamentalmente il megaesofago. Ne parleremo in un altro video del megaesofago in modo da spiegarvi che cos'è esattamente il megaesofago. Altre patologie che colpiscono l'esofago sono fondamentalmente, per esempio, le fistole bronchoesofagee, possono dare polmonite ab ingestis, anche se sono più rare, e generalmente dei disturbi di motilità dell'esofago. Un'altra, come abbiamo detto, anche dallo stomaco può avvenire questo tipo di situazione? Sì, soprattutto durante l'anestesia, è il motivo per cui si intubano gli animali in anestesia, per evitare fondamentalmente che materiale contenuto nello stomaco possa poi essere aspirato dalla trachea, e quindi materiale molto acido, dare determinati problemi, come per esempio la necrosi tissutale, emorragia, edema, e quindi poi una risposta molto infiammatoria a questo tipo di contenuto. Altre patologie che colpiscono, per esempio, la laringe, per esempio la paralisi laringea, può dare fondamentalmente polmonita ab ingestis, la laringoplastica, cioè l'intervento alla laringe, può dare ovviamente, come complicanza, una polmonita ab ingestis, la calasia cricofaringea può dare polmonita ab ingestis, abbiamo come malattia sistemica la miastenia gravis, che può dare polmonita ab ingestis, polineuriti, polimiositi, e è importante fondamentalmente quando noi somministriamo l'olio di vasellina, quindi qua adesso apriamo una parentesi, perché l'olio di vasellina a volte può essere aspirato dalla trachea, e quindi bisogna stare molto attenti a dare l'olio di vasellina, motivo per il quale nella gestione, per esempio, dei boli di pelo del gatto, vi metto qua sopra il video che parla dei boli di pelo del gatto, io cerco di evitare fondamentalmente l'utilizzo della vasellina liquida, ma preferisco che utilizzate un'olio di vasellina, che poi viene ovviamente inserita all'interno di una crema, di una sostanza che fondamentalmente non è liquida, in modo tale da evitare come complicanza la polmonita ab ingestis. Fondamentalmente il materiale quando viene aspirato dalla trachea non è un materiale, non pensiate che venga aspirato tantissimo cibo, può capitare, ma è molto raro, in quei casi lì bisogna aspirare più che si può il cibo che viene ingerito, ma molto spesso la quantità di cibo che viene aspirata è molto poca, e generalmente questa va a finire nei bronchioli terminali, quindi è difficile poi aspirare questo contenuto, quindi tendenzialmente è difficile aspirare completamente tutto il materiale che viene ovviamente aspirato dalla trachea. Quindi fondamentalmente la gestione di questi casi è generalmente nella gestione dei segni clinici, questi cani di solito in una fase acuta presentano dispnea, presentano onoressia, presentano depressione del sensorio, quindi fanno fatica a respirare, quindi si cerca di utilizzare, di solito sono in shock, quindi di solito generalmente si cerca di gestire la sintomatologia, quindi si somministra ossigeno, motivo per cui questi sono animali che vanno ricoverati e fondamentalmente hanno bisogno quindi di ossigeno, si gestisce la fluidoterapia e lo shock, si cerca di dare dei broncodilatatori e in ultimo ovviamente si somministrano antibiotici, non tanto per il contenuto nello stomaco ma quanto perché fondamentalmente la bocca dei nostri cani e dei nostri gatti non è sterile, quindi fondamentalmente molto spesso hanno delle malattie paradontali per esempio, quindi abbiamo comunque un contenuto ricco di batteri, quindi antibiotici ovviamente per gestire l'infezione batterica ovviamente secondaria dall'ingestione di questo materiale, a volte nelle situazioni più gravi si utilizzano anche i glucocorticoi, le prognose ovviamente sono riservate in base anche alla situazione in cui l'animale si trova. Possono esserci anche delle polmonite abingestis croniche, sì, a volte si formano anche dei granulomi fondamentalmente per la presenza di questo materiale aspirato. Di solito come ha detto, si gestisce l'area infiammatoria, quindi se si fa un lavaggio tracheale si vedono neutrofili, macrofagi che aiutano la diagnosi radiografica. Di solito anche l'anamnesi ci aiuta e fondamentalmente la malattia per cui poi la polmonita abingestis è una complicanza. Per esempio se noi abbiamo questi cani che radiograficamente hanno una polmonita abingestis molto probabilmente, come vi ho spiegato, una delle prime patologie che andiamo a controllare quando abbiamo una polmonita abingestis al megaesofago, avremo una storia di rigurgiti, avremo una storia clinica che ci aiuta fondamentalmente poi nella diagnosi. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video e un saluto a tutti.